Eccoci qua nuovamente insieme, pronte la nostra serata basket, insomma l'ultima parte non è stata particolarmente allegra per il risultato del Rimini chiaramente, poi insomma noi si parla di calcio, sono bene altre insomma le cose che devono preoccupare nella vita, insomma nel basket invece possiamo dire che RBR sta andando alla grandissima perché ha centrato il settimo radifila, tante nostre squadre hanno vinto e quindi ne andremo a parlare subito, scopriamo con chi, iniziamo da Erika Brancolini responsabile organizzativa della federazione sanmarinese a pallacanestro e allenatrice di basket femminile, buonasera Erika, ciao, vediamo anche Roberto Ferrari istruttore mini basket dei Titans a San Marino, ciao buonasera, buonasera e anche della federazione naturalmente perché insomma sono tutte collegate in questo caso, in caso di San Marino, abbiamo l'MVP della vittoria di Albergatore Pro, Nicolo Moffa, buonasera, bentornato a calcio.basket, di solito ci mandano il migliore, te diciamo già non è la prima partecipazione, è un buon segnale, è un buon segnale e buonasera al nostro Daniele Bacchi, buonasera a tutti grazie, salutiamo anche il nostro Alessandro Ceccoli che ha avuto qualche linea di febbre, domani si deve rimettere in moto e quindi l'abbiamo lasciato a riposo però lo salutiamo, allora Nicolo iniziamo da te perché insomma questo centello rifilato a Teramo devo dire che è sempre un bel vedere per i 2500 tifosi presenti al Flaminio, 169 al finale. Eh sì, è stata una bella vittoria, poi il pubblico ogni volta che scende in campo mi sembra sempre di più. E dai numeri sembrerebbe proprio di sì che non sia solo una settimana. Però avevamo preparato la partita bene tutta la settimana, ci eravamo concentrati nel cercare di limitare i loro giocatori migliori e poi con la difesa e l'intensità di gioco siamo riusciti piano piano a prendere un po' più di margine fino al risultato finale. Ecco diciamo che è una sfida che non è stata mai in discussione, 28 a 15 al decimo, 48 a 35 al ventesimo, 71 a 53 al trentesimo. Quindi insomma i parziali ci dicono che a parte sì c'è stato un ritorno di Teramo a un certo punto sotto la doppia cifra però è stata diciamo una lenta progressione verso questa vittoria che vi ha portato anche a raggiungere quota 100 che è sempre nel basket è sempre un traguardo importante. Sì sì, dopo ovviamente c'è stato un piccolo calo, adesso non mi ricordo se durante il terzo o il quarto quarto. Però Massimo ha chiamato subito time out e ci ha rimesso subito in riga, dopo abbiamo ricominciato a giocare per bene e siamo riusciti ad arrivare a 100 con il tiro libero di Vandi e ha fatto l'esordio anche Mancini, quindi è stata una cosa molto bella dai. Una domenica indimenticabile anche per loro. Daniele, insomma un RBR che sta volando. Sta volando, sta volando. Non posso dire che ci si sia annoiati come l'anno scorso, anche se è una vittoria con un margine da anno precedente. Abbiamo visto giocare in una maniera particolare e con un'intensità che si sta ricostruendo e questo è un fatto molto positivo. L'avversaria non era sicuramente un avversario di rango, non c'erano lunghi di ruolo nei nostri avversari e infatti quasi tutti hanno banchettato dentro l'aria. Rinaldi uno, Nicolò ha fatto i suoi numeri, tant'è che qualcuno dietro di me si chiedeva ma come mai Francesco Bedetti lo tengono precauzionalmente a riposo? Poi quello che faceva questa domanda ha visto tre azioni sue consecutive e ha detto ho già capito, chiaramente se Moffa gioca così gli altri devono stare a sedere perché lui merita lo spettacolo che ci regala. La squadra gira molto bene e quindi la partita è stata comunque interessante. È durata di fatto solo fino all'otto pari, poi ci sono state due schiacciate consecutive e due triple consecutive e lì è finita. Nel senso che poi dopo c'è stato quel divario che ha permesso di giocarla, però alla fine è stato divertente. Il meno nove, il più nove scusate, è arrivato in un momento sì così un po' di leggerezza ma ci stava. Insomma erano più 22 e dopo sono andati 31 per cui diciamo che non c'era la contropartita. Anche perché ci ha pensato subito il coce? Ci ha pensato subito il coce a metterci un tappo. Comunque il tappo alla partita ha messo un'azione che io in vita mia non avevo mai visto. Un contropiede, Broglia-Rinaldi che secondo me è veramente da incorniciare. Perché un contropiede, Broglia-Rinaldi che sono due giocatori straordinari ma sicuramente non i più veloci e nemmeno i più giovani è una cosa che io in vita mia non l'avevo mai vista e ieri l'ho vista. Quindi conservi questa chicca. Conservo questa chicca perché veramente suggerisco di vedere la partita stasera, di andarla a ritagliare e tenerla perché dai un contropiede, Broglia-Rinaldi è una cosa... Teniamo anche una sua schiacciata anche al venticinquesimo. Le sue schiacciate ce le godiamo ma lui ha vent'anni quindi ne vedremo ancora. Un contropiede, Broglia-Rinaldi con tutto l'amore e l'affetto... Vai proprio sulla Marcord giustamente. Quello me lo dovete dire. I cent'anni di Fellini è giusto andare anche sulla Marcord. È già stato premiato. Diamo qualcosa anche agli altri dai insomma su. È già stato premiato. Mi sei dando dei suggerimenti anche per la puntata di RBR che gioco il basket. sai che devono commentare un'azione. Ero abbastanza orientato verso una sua schiacciata ma adesso vediamo. Voglio rivedere questa azione come è stato commentato. Insisto che il contropiede Broglia-Rinaldi quasi 70 anni in due. In due però perché se no sembra che siano lì. Sarebbe molto più grave un contropiede mio che ce li ho da solo praticamente. Va bene allora prima di degenerare diamo la parola ad Erika che chiaramente segue da vicino le vicende di RBR sia per quanto riguarda ovviamente la prima squadra che per quanto riguarda tutto il movimento giovanile che riguarda tutte le società compresi ovviamente i Titans e i San Marino. Sì adesso parliamo anche del 18 che ha giocato stasera che abbiamo perso di 6 con Rieti però il campo è abbastanza difficile. Purtroppo è andato male però hanno giocato molto bene i ragazzi quindi su questa cosa siamo contenti. Sulla parte settore giovanile Titans e FSP anche perché abbiamo più di 200 iscritti quindi siamo molto contenti. e da quest'anno è partita anche la femminile quindi ancora di più. E poi in maniera particolare. Sì sì con 30 bambine che sono contenti. Ex giocatrice. Sì 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 quindi su questa cosa siamo molto contenti. Sta andando molto bene direi questa associazione di società che praticamente hanno formato una grande famiglia che hanno questa prima squadra in RBR che però vuol dire anche comunque una collaborazione molto bella molto viva tra tutte le società perché è una collaborazione vera questa non è rispetto magari ad altri consorsi tra virgolette società insomma solo una cosa a livello nominale no? No no è una collaborazione vera cioè i ragazzi comunque si allenano da più parti comunque cerchiamo di venirgli incontro a tutte le situazioni quindi anche con la nostra prima squadra sta andando bene i giovani che stanno giocando insomma stanno mettendo il massimo anche perché sono ventenni neanche quindi oltre vabbè a Saponi e Raschi che sono i veterani tra virgolette però gli altri sono tutti i ventenni fondamentalmente. Ecco lì ci sarebbe il contropiede a Saponi e Raschi anche se Raschi il contropiede lo può fare alla grande anche adesso. Potrebbe stare per ruolo diciamo. Per ruolo. Però anche lì sarebbe davvero da vedere. O per ex ruolo perché adesso insomma è stato avvicinato il canestro a Raschi no? Per ex. Noi ce lo ricordavamo quando facevo le telecroniche ma stiamo parlando di vent'anni fa ormai praticamente insomma Raschi era un play guardia. Era un play. Adesso nada. Adesso nada. Tra poco diventa anche pivot. Esatto. Stimando così. Roberto chiedo anche a te un commento prima sulla prima squadra su RBR che immagino insomma seguirai anche da tifoso oltre che da addetto ai lavori. sicuramente è una squadra che sta ridando ormai già da due anni un entusiasmo che a Rimini per i motivi che conosci meglio di me si era un po' perso. È una cosa che sta crescendo partita dopo partita come vedo, come mi accorgo eccetera. non solo nel palazzo ma se ne parla, se ne parla in giro e quindi è un continuo divenire di crescita al di là del fatto dei giovani hanno un mix di giovani e di esperienza perché io che sono vecchio come loro e che ho giocato con rivali posso garantirti che stiamo parlando di giocatori di categoria superiore. Per cui è una squadra che sta crescendo piano piano e che potrà regalare delle grandi emozioni. E tutta questa cosa di cui parlavi tu della collaborazione eccetera, avendo un traino come RBR non può che fare bene a tutto il movimento. Ma se vai a vedere i risultati delle squadre minori dicono che Bellaria, Riccione, San Marino sono tutte realtà che stanno crescendo. Non c'è niente da dire, è un momento positivo. È vero, è vero, è una cosa che si sta diciamo ripercutendo in maniera positiva, un circolo virtuoso. In tutta la realtà locale. In tutta la realtà, sì sì, questo è vero. Chiaramente con il trascinatore RBR che sta realizzando quello che fino a prima della nascita di RBR tutti i Rimini hanno detto no, a Rimini non è possibile fare. Io dicevo anche stamattina durante Tempo Reale, il mio intervento di mattina a Tempo Reale su Radio Icaro TV sempre dicevo Rinascita a Baschetti Rimini ha dimostrato che comunque con un progetto serio e con le persone giuste che riescono anche a metterlo in pratica anche in realtà come Rimini dove sembrava impossibile e ricordo anche tentativi che sono stati fatti nel calcio oppure anche in altri sport di polisportive, invece qui è possibile e ce lo sta dimostrando proprio in rinascita a Baschetti Rimini e questo è sicuramente una cosa molto positiva perché dà anche una carica anche a Riminese ulteriore. Torniamo con Nicolò alla prestazione perché abbiamo detto che sei stato il migliore in campo però diamo anche qualche numero come piace al nostro amico Daniele perché insomma 22 punti con 9 su 11 dal campo, serie in balza e 4 pale recuperate. Direi una gran bella prestazione. Sei immagino soddisfatto? Ne hai fatta qualcuna visto che sei stato premiato anche altre volte? C'è qualcuna secondo te che è stata migliore a livello personale in questa stagione o ti piace questa? No, diciamo che io quando gioco do sempre al 100% a prescindere dai punti di solito non ci guardo mai e preferisco essere contento per la vittoria che abbiamo fatto con la squadra, dopo il resto viene dopo. Ovviamente sono molto contento della prestazione che ho fatto perché ho aiutato i miei compagni a portare a casa la partita, quindi credo di ripagare la fiducia che mi dà Massimo e la fiducia che mi stanno dando i miei compagni e tutti il lavoro che faccio in allenamento lo uso poi in campo. Consigli che mi danno giocatori come Eugenio, Broglia, Tommy, un po' tutti dai perché alla fine sono tutti giocatori di esperienza e di alto livello. Io ho 20 anni quindi devo imparare ancora molto e cerco di prendere qualcosa da ognuno per poi impararlo e usarlo all'interno del campo. Niccolò, Daniele è stato il top in questo match però va anche ricordato che chiaramente con 100 punti te l'aspetti di più però che sei giocatori biancorosso è una chiusa in doppia cifra perché abbiamo 18 di Rinaldi, 15 di Francesco Bedetti, 11 di Broglia, Luca Bedetti e Ambrosina quindi insomma direi che è stata una prestazione di squadra davvero notevole. Una prestazione di squadra che è poi sempre comunque la chiave del valore di RBR. L'abbiamo già detto tante volte e continueremo a ripeterlo perché continueremo sicuramente a goderci tutti questi risultati. Il finale è stato 169, la valutazione Lega che è quella che valuta i risultati individuali dei giocatori è risultata 129 a 41. Non era mai successo per una squadra di Rimini di avere un differenziale così contro un avversario. 129 a 41, lui aveva 36 di valutazione Lega. L'unica statistica dove è stato battuto è quella dei rimbalzi perché Rinaldi ne ha presi nove, ma se no con sei il secondo rimbalzista della squadra. Il bello di Nicolò è che lui non è solo un tiratore, penetra, difende, compare e scompare improvvisamente in tutte le parti del campo, però quando compare è dove c'è la palla e questo è un fatto estremamente positivo. Lui è l'indice però di una crisi globale perché un altro che ha mandato al mare tutti i suoi avversari è stato Ambrosin che chiaramente abbiamo detto non c'erano lunghi di ruolo nella squadra avversaria, però c'era sempre comunque gente robusta e fisicamente atletica e finalmente in grado di competere. Quindi i nostri giovani, come abbiamo detto la volta scorsa, sono una realtà e quindi andiamo molto bene. Hanno tirato col 61% da 2 e col 50% da 3. Sono dei risultati notevoli. Il 48 a 24 nei rimbalzi, poi dopo diciamo che è la ciliegia sulla torta, dice come si fa a vincere o perdere una partita. Diciamo che l'unico dato non proprio esaltante è le 17 su 28 liberi, che sono migliorabili. Quello è migliorabile ed è un punto negativo che si stanno portando dietro da un po' di tempo. C'è rimasto quello. Chiaramente in situazioni di avversari diverse, anche lì 2-3 tiri in più o 2-3 tiri in meno cambiano completamente. Non dimentichiamo che noi andiamo ad Ancona, forse anticipo però lo stesso, con un avversario che teoricamente è abbordabile. E dall'altra parte abbiamo un Cesena Fabriano che farà capire chi fa la voce più grossa fra quelle che comandano e fra quelle che comandano penso anche Rimini, perché poi noi avremo Cesena il mercoledì successivo, lo ricordiamo perché altrimenti la gente non si ricorda, e quella sarà una partita chiave perché dobbiamo anche vendicare la partitaccia che facciamo quando siamo andati là. Questi sono i risultati. Allora, ci sono già diversi messaggi, prima però andiamo da un amico della nostra trasmissione che è Fisio Kinetica. Con la stagione fredda iniziano i dolori? Per problemi di artrosi, traumi o incidenti sportivi, a Fisio Kinetica studiamo il programma riabilitativo su misura per te. Con la nostra esperienza e professionalità potrai alleviare il dolore e ritrovare il benessere. Centro di riabilitazione Fisio Kinetica, il primo consulto è gratuito. Ci trovi a Sant'Arcangelo, Via Ugo Braschi 12, Gelsosport, Igea Marina, Domus Medica, Nova Feltria e su internet Fisio Kinetica.it Silvia, siamo pronti? Sì. Ciao Nicolò, complimenti per le partite che stai facendo, veramente eccezionali. Questa squadra ha qualcosa di speciale, ma soprattutto ha dei giovani speciali che non mi sarei mai aspettato di vedere, con un carattere così grintoso. L'ultima volta che eri stato ad Icaro avevo scritto che te, Ambrosin, eravate una delle migliori coppie del campionato. E ora posso ufficializzare che siete l'unica coppia giovane più forte del campionato in cui bisogna investire in futuro. Vedendo la partita sulle tribune sembra che tu hai un feeling con lui, non solo dentro il campo. O sbaglio? Che rapporto avete? Continuate così, Claudio. Allora, innanzitutto grazie per i complimenti. Con Ambro mi trovo molto bene, è un bravissimo ragazzo, è simpatico e sia dentro che fuori dal campo abbiamo un ottimo rapporto. Sicuramente questo qui aiuta a giocare bene anche durante le partite o gli allenamenti. Grande RBR, tanto cuore in questa squadra. Un grazie speciale al nostro Nicolò perché ci fa sempre emozionare con la sua grinta, la sua lotta per ogni pallone, le sue bombe da tre e le sue schiacciate. Tanta roba insomma, riassumendo. Sì, sono tutti grandi complimenti. Sì, sì. Volevo fare i complimenti a Nicolò, sei stato spettacolare. Un saluto a tutti Rita. Moffa è il più forte e spettacolare, come mentalità di gioco solo dietro a genio rivali. Sarà presto osservato da squadre di categorie superiori. Grandissimo. Ebbè, probabilmente già qualcuno ci sta mettendo gli occhi addosso. Ma RBR non credo che ti lascia andare così facilmente perché diciamo che i progetti sono ambiziosi e direi che l'arrivo anche di Simoncelli è una testimonia che si vuole fare qualcosa già da questa stagione di importante. Andiamo a fare il nostro giro dei campionati. Iniziamo dal campionato di serie B femminile con la Renaut e Pibaschetti Rimini che ha perso di un punto il derby con la Libertas Forlì. 56-57. Le ragazze di coach Filorossi sbagliano troppi liberi e troppi tiri aperti. 12-14 alla fine del primo tempino. Poi il secondo si è concluso sul 14-12. Il terzo in parità 17-17. E l'ultimo 13-14. Chiaramente insomma molto equilibrio e però vittoria a Forlì. In casa Pibaschetti 15 punti per Noemi Duca e 10 per Vespignani. Andiamo alla C-Silver e partiamo proprio dalla T-Succare San Marino che ha battuto con un più 20 abbastanza roboante Fossombrone. 70-50. Ottavo successo nelle ultime nove partite. 21-10. 36-24. 52-38 per quanto riguarda i punteggi dei primi tre parziali. Ottima distribuzione di punti per la T-Succare. Il top scorer è Saponi che ha i 13 punti e aggiunge anche 8 rimbalzi. 11 punti per Semprini più 7 rimbalzi. 7 carambole anche per Felici. 6 punti e 7 assist per Raschi. E qui vado dai nostri ospiti per farmi raccontare meglio sia la partita che soprattutto il momento della T-Succare. Siamo partiti forti. Il primo quarto 22-7. Quindi sono andati molto molto bene. Ma soprattutto i giovani è partito bene a tre. in quintetto perché comunque con Ugolini che se n'è andato a Varese. Ettore è entrato, ecco... Promosso in quintetto. Promosso in quintetto ed ha fatto benissimo perché comunque ha dato subito 6 punti. Ha fatto vedere comunque che c'era in campo. Quindi ecco, i giovani sono partiti veramente forti. Poi ovviamente il sostegno di Saponi e Raschi perché anche loro erano in quintetto. hanno dato il loro sostegno. Roby, dimmi anche te che comunque i primi due quarti ci hanno regalato. La cosa evidente, parlando appunto di giovani e giocatori d'esperienza, che Ettore Semprini per la prima volta in quintetto, quindi con tutte le problematiche del caso, è stato messo subito in ritmo da Raschi. Gli ha dato due cioccolatini solo da buttare dentro. Così che un giocatore entra in clima partita immediatamente. Ha preso fiducia e la squadra è andata da sola. Nel senso che non ha avuto up and down che hanno avuto altre volte e ha sempre gestito il vantaggio contro una squadra seconda in classifica. E quindi è una grossa nota di merito. Una squadra che probabilmente qualche mese fa una partita così costante, così regolare, non l'avrebbe avuta. E quindi molto bene. Siamo in crescita anche noi. Dall'inizio dell'anno sicuramente siamo migliorati molto. E i giovani hanno preso più fiducia, quello sicuro. 8 su 9 direi che è tanta roba. Sì, sì, sì. No, molto bene. Anche per Radice Bustano dei punti, come diceva anche Daniele prima, anche per noi a San Marino, anche i giovani hanno preso fiducia, dando comunque in doppia cifra anche molti altri giocatori. Quindi dipendente dai senior, tra virgolette, perché senior ne abbiamo proprio due. Però buoni, due buoni. Sì, buoni, buoni. Allora, prima di contare il nostro giro di campionato, andiamo ad un altro amico, ad una nostra trasmissione, il Medical Center Misano World Circuit. Il Poliambulatorio Medical Center Misano World Circuit effettua visite specialistiche di vario tipo ed esami diagnostici, utilizzando apparecchiature mediche all'avanguardia, sotto l'attenta osservazione dei migliori medici e specialisti. Con due risonanze magnetiche, di cui una ad alto campo, particolarmente adatta per pazienti claustrofobici, ed un attack total body a basso dosaggio di radiazioni, sapremo darti un servizio ancora più completo e attento alle tue esigenze. Tutti gli esami e le visite sono eseguibili sia in forma privata che convenzionata con il Sistema Sanitario Nazionale. Il Poliambulatorio Medical Center Misano World Circuit lo trovi a Misano, all'interno dell'autodromo Marco Simoncelli. Telefono 0541 61 10 95 Ancora Cisilver per parlare del Bellaria Basket, che chiude il giurone d'andata con 16 punti, con una vittoria limpide, danni di una delle due cenerenti del campionato, il Castelfranco-Emilia, 76 a 54 il punteggio finale, 17 a 13, 41 a 24, 64 a 42 i tre parziali, che parlano di appunto una lenta progressione, comunque verso la vittoria per il Bellaria. Il grande protagonista è stato Lorenzo Brighi, con i suoi 27 punti, con 12 su 15 al tiro, 7 su 10 della lunetta, 8 rimbalzi, 4 recuperi, in doppia cifra anche Fogliera, 11 punti e Rossi a 10. Da sottolineare l'ingresso in campo di tutti i 10 giocatori, 9 di quali sono andati a referto, col debutto del 2003, Luca Tamburini, quindi insomma tante note liete anche in casa Bellaria. Cisilver sempre con la Santra Cangiolese, che per 35 minuti se la gioca la pari con la capolista Fidenza, nonostante l'assenza di capitana Fusco, ha letto con l'influenza, 16 a 21, 41 a 37, 60 a 56, i primi tre parziali, top scorer di Clementini e Fornacciari, che scrive 16, 15 punti per Nervegna e Zannoni. Poi passiamo alla Serie D, con il primo miglio stella, che è corsata sul campo della PGS Welcome Bologna, 64 a 74 il punteggio finale, 20 a 12, quindi inizia un po' in sordina, poi 42 a 35, 50 a 55, quindi lenta progressione verso questa vittoria esterna. Per la Stella 16 punti di Naccari e del Turco, 14 per Pinto, buono l'inserimento di pari, che compatibilmente con gli impegni di lavoro, se allenava già con la squadra, per lui 21 minuti, con 5 punti e 5 rimbalzi. Dopo quasi un mese e mezzo senza vittorie, e ce lo raccontava il nostro Paolo Guiducci, qui solo la settimana scorsa, tornano al successo i Rosencron e Villanova Tigers, che conquistano il primo successo di questo 2020, sul campo della Palacanestro Pianoro, col punteggio di 84 a 96, ribaltando anche così il meno 6 dell'andata, 21 a 15, 45 a 33, 63 a 62, i primi tre parziali, top scorer Capitan Sacani con 24 punti, in panzeri scrive 15, Buo e Tomasi 14. Chiudiamo con la Dani Dolphins Riccione, che a Granarolo va a centrale la decima vittoria stagionale, che vale l'aggancio al quinto posto, alla serena Sant'Agata, 69 a 74 del finale, 21 a 28, 37 a 46, 50 a 61 i parziali, top scorer Romagnoli De Martin con 30 punti, 12 per Marco Amadori e 10 per Bomba. Non ha giocato invece, in questo caso, la nostra squadra di basket in carrozzina di Serie B, l'NTS di Viera Basket, però c'è stata una novità molto importante, in attesa poi della trasferta probitiva sul campo di Varese, della prossima settimana. Però, qual è Daniele la novità? La novità è che Antonio Aietti, che è il nostro numero 55, è un giovane di 20 anni, compierà 20 anni il 6 di febbraio, è stato incluso nei giocatori della nazionale italiana Under 22, quindi lui da questo momento è a disposizione su chiamata del selezionatore della nazionale per prendere parte a tutti quelli che saranno gli eventi della Under. è stata una soddisfazione mostruosa per una società come Riviera Basket, che ha una gestione molto semplice e molto amatoriale, se vogliamo, ma la passione, l'intensità e la volontà di fare le cose è estremamente professionale. e al di là dei risultati sul campo, questo è un risultato che ripaga degli sforzi e della fatica che si fanno a tenere insieme un sistema sportivo, palacanestro, in un ambito, peraltro, poi così, diciamolo pure, complicato, non per la condizione fisica dei giocatori, ma complicato per tutto quello che comporta la gestione di una squadra che ha bisogno di mezzi, strumenti e si deve muovere, peraltro, in un ambito nazionale abbastanza esteso perché giochiamo il campionato nazionale di Serie B e quindi le trasferte sono anche lunghe e il campionato è molto impegnativo. Ci sono società importanti con budget grossi come appunto Varese e Parma che sono le prime due della classifica, poi ci sono invece altre società che sono gestite in maniera più snella e appassionata come del resto, appunto, abbiamo detto Riviera Basket e quindi questa differenza si nota molto specialmente nei risultati in campo. Però, diciamo che Riviera ha svoltato, quest'anno è un anno completamente diverso, al momento occupiamo il quinto posto su sette. Di solito ne eravamo abituati ad essere il fanalino di Cone, ma il quarto posto è lì, ha una sola vittoria di differenza. Quindi è nel mirino. E quindi è nel mirino. Diciamo che l'obiettivo di riuscire ad arrivare, almeno arrivare vicino al terzo posto, o quantomeno al terzo posto, che sarebbe veramente un grandissimo successo, è comunque possibile. Lasciamo stare Amca Varese, che è la squadra che ci ospiterà, che a parte nella gara contro Parma, che ha vinto D16, di solito regala dai 40 agli 80 punti di scarto agli avversari. Bene. Ci prepariamo, ci prepariamo. Qualcuno che, insomma diciamo, è un qualche cosa che è caduto per sbaglio in Serie B, ma che non ci doveva essere. Però ci andiamo, ci andiamo, perché ce la giochiamo, perché in ogni caso è una grande esperienza. I ragazzi meritano tutto questo, perché l'abbiamo già detto mille volte, e lo dirò un altro milione di volte, stanno facendo uno sforzo grandissimo, è un risultato di proporzioni veramente epocali e veramente Rimi ne avrebbe bisogno anche di un sostegno maggiore. Sostegno maggiore, parliamo sempre di movimento basket, però esiste un movimento che sta crescendo, chissà che un domani non diventi ancora più ampio e che non venga fuori qualche cosa di più, perché bisogna lavorare sempre e comunque non solo di prima squadra, ma bisogna lavorare di società, bisogna lavorare di giovani, bisogna tirare su tutti e nel caso specifico andare a prendere a casa tutti quelli che non fanno fatica a camminare con le loro gambe, però possono in un campo di pallacanestro dare un risultato e ottenere delle soddisfazioni che sono impagabili. Benissimo, andiamo ora da un amico sia di Calcio.basket che proprio di Rivera Basket il ristorante Frontemare. I fratelli De Luca ti aspettano al ristorante musica Frontemare e al ristorante pizzeria Lo Zodiaco in Viale Regina Margherita a Riva Azzurra di Rimini all'altezza del bagno 121. Al Frontemare potrai gustare un ricco e vario buffet sia a base di pesce che a base di carne. Frontemare direttamente sulla spiaggia e con un'ampia sala unica con oltre 400 sedute è il locale ideale per compleanni, cene sociali, cerimonie ed eventi. Allo Zodiaco troverai tante specialità a base di pesce, primi fatti in casa e pizzeria con forno a legna. Frontemare e Lo Zodiaco a Riva Azzurra di Rimini qualità, professionalità e particolare attenzione ai propri ospiti anche nel prezzo. Per info e prenotazioni telefono 0541 47 85 42 Passaparola Altri messaggi? Sì. Fortuna che ci siete voi a RBR che tenete alto lo sport a Rimini. Speriamo che i ragazzi terribili del Riviera in questo turno di riposo non si riposino troppo. Peccato per le happy. Eh sì, è ben detto per quella sconfitta di misura. Complimenti ai giovani di Rimini. Maffa e Ambrosin vogliamo vedervi vogliamo vedervi in A1 fra un po' di anni. Dove? A Rimini. Io ci credo. Ora sta a voi. E beh, questo è un bellissimo auspicio. Per Nicolò hai un sogno cestistico? Sì, ovviamente. il mio obiettivo è quello di arrivare a giocare nelle serie A nelle leghe più alti diciamo così. Ovviamente ci devo lavorare e lo sto facendo perché piano piano prima o poi voglio arrivare a giocare in alto. E magari con RBR. Magari con RBR. Allora ci hai detto prima Erika qualcosa abbiamo accennato un po' al settore giovanile dei Titans e ovviamente sempre l'attività della Federazione San Marinese e Pallacanestro raccontaci qualcosa in più perché lì davvero insomma ci dicevi anche adesso ci sono anche le ragazze le giovani una realtà davvero in grandissima crescita mi sembra. Sì come come mini basket siamo a quasi 140 bambini tra maschi e femmine ovviamente nel settore giovanile raggiungiamo circa i 200 circa quindi sì facciamo tutti i gruppi tutte le annate tutte le varie categorie oltre a quelle FIP facciamo anche quelle WISP perché ovviamente abbiamo molti ragazzi che non riusciamo a farli giocare da una parte e li facciamo giocare anche nelle altre situazioni e quindi siamo molto contenti di tutte le categorie ovviamente anche l'Under 18 insieme all'RBR stiamo andando molto bene come vi dicevo prima la femminile abbiamo provato abbiamo iniziato l'anno scorso un po' quest'anno c'è stato il boom perché siamo siamo arrivati a 30 bambine quindi abbiamo iniziato il campionato di gazzelle quest'anno stiamo cercando di mantenerle e di cercare di aumentarle sempre di più per cercare ecco di creare un movimento che a San Marino non c'è mai stato fondamentalmente quindi sono contenta anche per questo questo ambito qua ecco infatti immagino che tu sia molto soddisfatta insomma da quando hai iniziato questa nuova avventura sul titano no? sì sì no era uno dei miei obiettivi ovviamente oltre alla parte organizzativa però la femminile sono andata anche per quello quindi per cercare di creare un movimento nuovo ci stiamo riuscendo ecco quindi con la fiducia di tutta un'organizzazione comunque San Marinese della federazione perché comunque anche loro fanno parte quindi ma anche soprattutto il mini basket quest'anno è stato un po' il record rispetto agli altri anni perché veramente 140 bambini non c'erano mai stati sulle varie sedi che abbiamo e qui chiediamo qualcosa più a Roberto perché il mini basket è proprio il tuo grande amore possiamo dire possiamo definirlo così perché te da sempre insomma ti ricordi strutture di mini basket di più sì io sono arrivato quest'anno a San Marino per cui per me è tutto nuovo un territorio abbastanza limitato come dimensioni come la Repubblica di San Marino ha tre centri di mini basket a Fonte dell'Ovo dove c'è Oscar Valentini a Saravalle dove ci siamo io Erika e Andrea Raschi Acquaviva dove ci sono ancora io ti fa capire che c'è un grande fermento al di là dei numeri al di là delle considerazioni sul lavoro eccetera io posso dire che mi sembra di essere arrivato in una realtà che ha dei grossi margini di miglioramento c'è una componente di persone a livello dirigenziale e a livello tecnico secondo me di grande livello di grande spessore non solo come professionalità ma anche proprio a livello umano uno staff tecnico che può contare sull'esperienza sulla capacità di Massimo Padovano fa crescere sicuramente tutti i ragazzi che allenano il settore giovanile hanno la possibilità giocatori allenatori di crescere quotidianamente ascoltando i consigli e guardando gli allenamenti di un professionista come Massimo all'interno della federazione ci sono persone come Michele Lanci Damiano Battistini che effettivamente si fanno in quattro o anche in cinque per far sì che le cose siano sempre al loro posto e questa credimi per una società di questo livello non è una cosa scontata per cui molto spesso in queste realtà piccole si parla di progetto di programmi a scadenza senza avere una minima idea di quanto in realtà si possa fare perché un'annata buona può capitare a tutti questo qui mi sembra che sia un movimento che cresca anno dopo anno e che abbia tutte le potenzialità per poter arrivare non so dove ma per poter crescere in modo esponenziale Nicolò dicevamo prima prossimo match per voi al Palo Rossini di Ancona domenica cosa ti aspetti che gara ti aspetti di sicuro faremo il 100% come sempre adesso domani mattina ricominciano gli allenamenti e dal pomeriggio cominceremo a guardare loro sia individualmente che come come gioco quindi schemi difesa loro in modo da arrivare preparati a domenica andremo là con la voglia di vincere e di provare a fare l'ottava di fila e vediamo come va non avete le vertigini vero? vista la posizione di classifica che inizia ad essere piuttosto interessante no però ovviamente siamo contenti perché era un risultato che non credo nessuno si aspettava però stiamo dimostrando che possiamo essere lì e quindi dobbiamo dare il 100% fine fine campionato per rimanere in quella posizione lì se non arrivare più in alto molto bene molto bene allora grazie ai nostri ospiti grazie a tutti voi per aver seguito questa puntata di calcio.basket io ricordo l'appuntamento più immediato per quanto riguarda il basket è con il basket giovanile giovedì sera alle 20.35 con RBR che gioco il basket ci sarà la sfida tra i Warriors Whisperimini e il Malatesta Basket quindi da non perdere per tutti gli appassionati parliamo ovviamente del nostro quiz dedicato proprio ai più giovani poi tra l'altro vi avremo anche tra qualche settimana come Titans i nostri ospiti mi riferisco ai nostri due ospiti oggi Erika e Roberto per quanto riguarda ovviamente invece RBR ben detto appuntamento domenica con i tifosi che si stanno già organizzando per la trasferta ad Ancona e anche lì presumo che saranno numerosi per quanto riguarda il calcio invece appuntamento a domani con la diretta di Mr. Colella alle 12.30 sulla nostra pagina Facebook Icaro Sport diretta video e diretta testuale ovviamente come al solito su News Rimini e poi per seguire mercoledì dalle 18.30 il match calcio.basket torna invece lunedì prossimo grazie Silvia grazie a te Roby grazie a tutti buon proseguimento se volete con la partita tra poco alle 23.20 circa della rinascita a basket Rimini con Teramo direi anche per quel contropiede che c'era scritto prima Daniele da non perdere assolutamente buon proseguimento grazie questo programma è stato offerto da Alca Servizi la soddisfazione del cliente è il nostro migliore biglietto da visita Usteria Il Quartino tutta la qualità romagnola Gruppo Markar la tua auto a Rimini grazie a tutti